Siamo a casa del ragazzo di 23 anni che il giorno della vigilia di Natale è stato selvaggiamente picchiato per aver osato, diremmo dire, difendere una ragazza che viene importunata da 5 ubriachi a dir poco. Lui ha accettato di essere intervistato per raccontarci la sua disavventura. Episodio, ricordiamo, che sta destando molte polemiche e indignazione, soprattutto perché è accaduto nel cuore della città di Bari. Ci dice che è accaduto il giorno della vigilia di Natale? Sì, io ero in centro e andavo lì con dei miei amici per celebrare questo giorno, come ogni anno. Non tornavo da un anno a casa perché vivo all'estero e quindi ero qui in vacanza soprattutto per vedere i miei genitori e le mie famiglie. Più o meno dopo un giorno di celebrazione mi sono ritrovato alle 6 e mezzo, 7, vicino Piazza Chiurlia, in Corso Vittorio Emanuele. I miei amici se ne erano andati, io anche... Eri davanti a un locale? Sì, ero davanti a un locale, stavo proprio in bagno perché prima di andarmene, a casa anche io, quando una delle mie amiche, ero con due amiche della quale una era straniera, e mi dice che la straniera era con... che la mia migliore amica era con dei ragazzi che non la lasciavano andare. E quindi sono andato a vedere e in verità ho trovato una scena orribile. Grazie a tutti.